Parole dure di Selle, non del Premier. Il Premier ha detto quello che anche alcuni di noi avevano detto nei giorni precedenti. Se un sinistra ecologico della libertà ci ritiene un partito che sta producendo una svolta antidemocratica, evidentemente considera il Partito Democratico sia un partito pericoloso e evidentemente non vorrà conseguentemente allearsi col Partito Democratico.